La tela del boss è il titolo dell'ultima fatica letteraria del giornalista Riccardo Loverso, cronista giudiziario, presentata in un interessante incontro che si è svolto presso la spiaggia delle Lampare a Castelli di Tusa. All'incontro hanno preso parte oltre l'autore del libro, lo stesso Loverso il sindaco di Tusa Luigi Miceli, il vice sindaco ed assessore della cultura Angelo Tudisca, Pietro Falcone, presidente del Tribunale di Agrigento, l'avvocato Roberto Fabio, Peppino Ragonese, avvocato e scrittore, ed ha svolto le funzioni di moderatrice, la docente e scrittrice Santa Franco. La notte tra il 17 e il 18 ottobre 69, nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo, venne rubata la natività con i Santi Lorenzo e Francesco D'Assisi, una grandiosa opera su tela di Caravaggio. La ferita più grave per il patrimonio artistico italiano rimane, ancora oggi, quasi 50 anni dopo, avvolta nel mistero. In questa inchiesta giornalistica, Loverso svela gli scenari emersi nelle ultime indagini sul misfatto, ritenuto opera di Cosa Nostra. Intanto sappiamo chi lo ha rubato, ed è una componente fondamentale decisiva, perché per tanti anni, per troppi anni, si è indagato un po' brancolando nel buio, non si sapeva chi materialmente il quadro inizialmente lo avesse rubato. E quindi si è trattato il caso del Caravaggio come se fosse un latitante. Non è un latitante, un quadro non scappa, ma lascia sempre delle tracce. Sono le tracce che gli uomini che lo hanno rubato lasciano via via nel percorso. Partendo da chi lo ha rubato, a poco a poco abbiamo scoperto, hanno scoperto gli investigatori, tante cose. C'è la speranza concreta di poter ammirare di nuovo il quadro del Caravaggio, che questo quadro possa essere restituito agli occhi del mondo. Non è facile, ma c'è un appiglio concreto per provarci.